Ma non capisci, George? Io non potevo deluderla. Ma potevi dirle di no! Invece le ho chiesto di sposarmi. Ma tu sei già sposato! No, 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 scusate, fermi, fermi. Io credo che per la sanità mentale del pubblico sia meglio cominciare dall'inizio. Dunque, buio, musica. Dunque, buio, musica. Giulia è una ragazza affascinante, bellissima, romantica, intelligente. E perché, George, che cos'è? Diglielo, George, che cosa sei? Scemo! No! 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 Grazie.